Ebbene, carissimi amici ben ritrovati sul mio canale, che cosa abbiamo combinato ieri sera nell'estrazione del 2 gennaio con il mio metodo Ambo Infallibile 2, la mia serie di metodi Ambo Infallibile che con l'inizio del nuovo anno comincia già a dare vincite strepitose. Cosa dicevo quando l'ho presentato? Prendete la previsione in gioco perché vinceremo l'ambo secco, queste erano le mie parole, la previsione è troppo forte, infatti dicevo prendetela tutti, perché dobbiamo vincere tutti insieme, purtroppo come accade spesso sono pochi quelli che magari mi danno ascolto e purtroppo pochi sono andati a prendere questa strepitosa vincita, oltre ovviamente mi fa piacere che invece molti hanno il metodo e abbiamo sbancato con un doppio ambo secco sulla ruota di Palermo in data 2 gennaio 2021, 42-47, 42-48 e il 42 era in prima e in seconda posizione, cioè abbiamo preso anche l'estratto determinato, ambata, estratto determinato e doppio ambo sulla ruota di Palermo. Io vi dico in totale veramente chiarezza, prendete questo favoloso metodo, in acquisizione immediata, perché ambo infallibile 2 ogni volta che si presenta la condizione di gioco va a vincere in una maniera incredibile, sono sempre i soliti sei ambi su due ruote, però abbiamo vinto un doppio ambo, un doppio ambo paga benissimo e una grandissima vincita e non sono tante le condizioni nell'arco dell'anno, ma vale la pena avere questo metodo. Questi sono tutti gli ultimi esiti ottenuti, tra cui l'ultimo proprio il doppio ambo secco 42-47, 42-48 e qui trovate le due testimonianze, questa la vincita del 42-48 in basso e in alto l'altro ambo secco il 42-47, grazie a due miei carissimi utenti che mi hanno inviato le testimonianze vincenti, quindi cari amici la mia collezione di metodi infallibili, di ambo infallibile, una bomba vedrete a gennaio, quante vincite andremo ad ottenere con ambo infallibile 1, il 3, il jolly, il tris e il one. L'intera collezione, per chi volesse acquisirla è in grande promozione, e chi fosse interessato ad ambo infallibile 2 lo prenda, perché questo è un gioiello da custodire gelosamente, perché è un metodo veramente potente. Per adesso un saluto a tutti, mister Sbancolotto.